Il parco ospita un festival di musica classica che punta non solo a proporre degli eventi ma anche a valorizzare il territorio. Sì, è un evento molto importante, è il Festival Internazionale della Musica, siamo alla 38esima edizione. È un appuntamento che ogni anno ci ricorda l'importanza del nostro territorio. È distribuito su tutti i comuni delle Cinque Terre, in particolare sui nostri santuari. Un festival, lo dicevamo, che punta a valorizzare il territorio e punta quindi a promuovere un turismo per così dire esperienziale e di qualità. Sì, noi abbiamo questa esigenza in questo momento, quella di coniugare il turismo sostenibile, chiamiamolo così, con la presenza sul territorio anche dei residenti. E questo è un modo molto bello perché l'arte, la cultura, la musica possono unire questi aspetti. Avremo anche delle degustazioni, quindi l'aspetto del territorio e dei prodotti agricoli e anche delle visite guidate con degli storici e con degli artisti. Questa manifestazione che è costituita da 10 eventi potrebbe poi avere un evento in più forse, in occasione del ventesimo anniversario dalla costituzione del Parco Nazionale. Sì, da ottobre a dicembre saranno due mesi intensi per il Parco Nazionale, cercheremo di mettere in luce tutto il lavoro fatto fino ad oggi ed è veramente tanto. Dovremmo fare anche crescere la consapevolezza sull'aspetto ambientale, insomma sono tanti risultati raggiunti ma ancora molto lavoro da fare. Il Festival Internazionale di Musica 5 Terre giunge alla sua 38esima edizione ed è un festival che ha una vita addirittura più lunga di quella del Parco stesso. Ci saranno 10 appuntamenti di assoluta qualità quest'anno. Sì, penso proprio di sì. È un festival storico, storico di grandissima tradizione che è nato per mettere in valore i beni culturali, musicali e artistici dei luoghi. Il primo concerto è il 26 luglio, abbiamo un quintetto di ottoni americano che farà il suo primo concerto nella chiesa di Vernazza e di lì si sviluppa fino a Monteroso, Soviore. Santo di Soviore ci saranno diversi concerti con grandi musicisti. Io voglio ricordare il coro alpino a Cauriol che è molto importante a livello nazionale e farà un concerto, l'ultimo concerto che sarà il 7 settembre. Grazie. 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 Grazie.